Bene, ritorniamo alla vittoria, risultato che ci fa morale, ci dà la sensazione che abbiamo lavorato bene in questa settimana, sinceramente abbiamo fatto quello che dovevamo fare perché comunque la squadra di là è una squadra giovane che il girone di ritorno secondo me farà bene, però abbiamo fatto una partita pulita, adesso dobbiamo continuare così per vedere se quello che abbiamo fatto riusciamo a metterlo in pratica oggi nata.